La polizia ha sgomberato il presidio dei No Green Pass al varco Etiopia del porto di Genova. L'operazione è avvenuta in modo pacifico al settimo giorno di protesta. Intanto dopo lo sgombero del porto continua il presidio in piazza Unità d'Italia a Trieste dove domani sono attese circa 20.000 persone da tutta Italia per il corteo No Green Pass. Una manifestazione che attende ancora l'ok della prefettura e che anticipa quella di domenica quando è previsto l'incontro con il ministro Stefano Patuanelli.